Per la non aggiornata del Contemporaneo, patrocinata dalla Maciam, Associazione Musei d'Arte Contemporanea Italiane, il Museo Civico di Arte Contemporanea di Floridia, giorno 5 ottobre, inaugurerà la mostra collettiva Movimento Fluido. Il titolo fa riferimento al tema scelta quest'anno, Acqua Micans, così come spiega la stessa responsabile MUDAC, Lidia Pizzo. Questa in realtà è la seconda rassegna che noi stiamo facendo dopo una prima rassegna nazionale di arte contemporanea. Abbiamo aderito all'iniziativa dell'AMACI, Associazione Musei d'Arte Contemporanea Italiani, che quest'anno è arrivata la non edizione e prevede la partecipazione e l'apertura di tutti i musei italiani alla fruizione dell'arte. Questi giovani si sono riuniti in gruppo e hanno dato vita a un movimento che si chiama Movimento Fluido, proprio perché il tema che quest'anno ha dato l'AMACI è l'acqua, ed ha un'immagine, emblema, che è quella di Marzia Migliora, che parla proprio dell'acqua, l'acqua come elemento fluido, come elemento che unisce e non che separa, e quindi meglio dell'acqua, elemento fluido, per rappresentare l'arte che unisce i popoli, unisce le persone, davanti a qualcosa di bello, diciamo, non c'è niente. Acqua, arte, arte, che ha la sua radice in ar, che significa, è una radice di origine indoeuropea, che significa andare, muoversi verso. Ente promotore della mostra collettiva d'arte contemporanea è il Parco Storico Lucia Migliaccio. Il Parco Storico Lucia Migliaccio si pone come ente promotore in vista di questa manifestazione, collettiva d'arte e movimento fluido. Si è voluto porre in tal senso perché reputa che l'arte è un settore della cultura estremamente importante e strategico, che deve essere valorizzato chiaramente in tutte le sue forme. Il Parco in questo contesto opera già da diverso tempo nell'ambito della cultura, però, ecco, si voleva porre anche per portare l'arte sia oltre i confini e sia anche in un territorio dove, tramite il Munda, che è il Museo d'Arte Contemporanea, si era già avviato precedentemente una prima rassegna d'Arte Contemporanea. Molti gli artisti partecipanti, alcuni anche con esperienze di gran pregio a livello mondiale. Curatore della mostra, Gigno Cilio. Dunque, intanto c'è stata una selezione molto accurata e sono scelti 22 artisti di altissimo livello. Sono giovani, sono tutti giovani e dentro la propria forza, nello spirito del tempo. E per dirla un pochino con noi tedeschi, nello Zeitgeist, nell'arte c'è questo policentrismo e quindi si trovano vari stili, varie espressioni per quanto riguarda l'opera in sé. Io ritengo che sarà una mostra estremamente interessante e speriamo che il pubblico gradisca e recepisce alla giusta maniera l'opera d'arte. Sabato 12 alle ore 17.30, intanto presentazione di un testo con il professor Carlo Truppi dell'Università di Catania, Vedere luoghi dell'anima con Gwyn Wenders. Edizione Electa. Grazie. 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 Grazie.